Ciao a tutti ragazzi, sono Pianeto Sotrun, benvenuti a questo nuovo video Oggi come promesso vi porto alcune immagini di questo bellissimo posto che è la Svizzera Ci troviamo qua nel canton Vaux, la Svizzera francese Vediamo questi bellissimi paesaggi E niente, qua, insomma mi sto Eccomi qua di nuovo, mi sto trasferendo qua a Lausanne Sto andando a Lausanne, una città a 5 minuti di treno dove abito io E niente, sto andando a fare un giro Visto che oggi forse non riesco a carcare video su giochi o altro Sto facendo col cellulare, immagino non saranno il massimo Ma spero che vada un bene Niente, oggi voglio fare via questo magnifico paesaggio Che è la Svizzera, questo magnifico posto Dove ci troviamo Vi faccio vedere un po' qualche immagine Qua vediamo se è in mezzo alle vigne Bellissimo, guardate qua Se è in mezzo alle piante Qua ci troviamo nella Svizzera francese Dove sono qua da 3 anni per lavoro E qua ci troviamo Là sotto, come vedete C'è la stazione Dove c'è il treno Quella va nella direzione opposta Qua ci troviamo Sul lago di Ginevra Quello che vedete Di là Si va verso Ginevra Dall'altra parte Dove si vedono tutte le montagne Sono Quella è la Francia Questo lago Fa Qua la separazione tra Svizzera e Francia E fa anche le confine Qua è una zona Pieda di pinetti Di vigneti Qua fanno tantissimo vino Come si può vedere Molto collinoso Ma la natura è veramente fantastica Oggi il tempo non è proprio il massimo Speravo di poter fare un video col sole Ma purtroppo non è così Vedrei portarvi uno un po' più alla luce al giorno Niente Adesso vedete Sto camminando Versa la stazione di Bossier Che è una stazione A 5-7 minuti da Rosanna Diciamo la città principale Per canton vu Dopo vi spiegherò un po' la storia della Svizzera Spiegando cosa sono i cantoni Per chi non lo sa Come mai si parla Francesco e italiano E niente Vediamo Che pian piano Ci stiamo avvicinando Alla stazione di Bossier Come si può vedere benissimo Da queste immagini Anche se Non è proprio chiaro Purtroppo Il tempo è quello che è Niente Piccolo video Oggi Non durerà tanto Perché Non so se riesco a farne Caricarne Ok Se riesco a caricarle Sulla computer Questi video Per poterle Mettere assieme Vediamo il tempo in giù Verso la Francia È brutto Probabilmente arriverà Pioggia Questi giorni Ha fatto veramente Un caldo assurdo Oggi La temperatura Sarà arrivata A 37-38 gradi Mia madre Che Qualche minuto fa Mi ha detto Addirittura Che a Ginevra Erano 41 gradi Non so se è vero Ma Se è vero Veramente C'è un caldo bestiale E niente Ragazzi Questo è un piccolo video Di oggi Continuate a supportarmi Nel mio canale Cosa volete vedere Alla Svizzera Cosa volete sapere Sulla Svizzera Mi porterò altre immagini E tutto Ci sentiamo Nel prossimo video Poi adesso Tutto Grazie